bellissimo questo mi è piaciuto questo mi è piaciuto però però troppo 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 lungo era leggermente più corto magari ci arrivavo prima però vabbè dai queste cose possono passare finisce il primo tempo 1 a 0 per noi che è un ottimo risultato ok prendila però anche che ci dormi sopra che cazzo ci dormi sopra ma donna però prendete sta palla per favore si la prendo la palla per tirarla loro però work out tuttana vero va vai avanza avanza che io sto arrivando sono qua io sono qua bellissimo che ho visto bellissimo vediamo se riesco a saltare questo perché è difficile mi stanno tutti attaccati tutti attaccati porca troia ci provo mason c'è arrivato non lo sa nemmeno lui come vai perché così lungo allora quanto lo dovete fare corto lo fate corto poi quando lo dovete fare lungo lo fate al contrario devo dire ma sono cose da passi bellissimo bellissimo sto cattolo bellissimo oddio oddio attenzione marsiglia non si fermano ora questi qua non so che cosa fare onestamente qua sono completamente chiuso passamela ci posso provare mamma mia un passaggio corto non me lo sai fare mamma mia si guardami ci provo sfondo la porta l'ho distrutta la porta un tiro potentissimo gli ho fatto spazza completamente il nostro compagno attenzione al marsiglia attenzione per fortuna fa un tiro di minchia ormai la partita direi che è vinta che è arrivato anche se dovessero segnare ma manco glielo danno il tempo per fortuna altra partita per 0 2 sta succedendo di tutto sta succedendo di tutto oggi tutte le partite vinte per 2 0 tutti i gol di segno io ma è una cosa fatta apposta sempre mamma mia comunque in campionato avete visto abbiamo superato il feinord abbiamo superato il feinord ora siamo in prima posizione a più 1 e loro hanno anche una partita giocata in più quindi se non giochiamo andiamo più 4 raga questo è l'anno buono per vincere il campionato olantese attenzione attenzione non voglio dire niente ajax 20 non ci sono riuscito a tirare mi ha deviato prima attenzione alla difesa nostra no no dobbiamo vincere il campionato non possiamo fare queste cose qua però vediamo se riesco ad avanzare da solo perché solo questo posso fare questa squadra sono io e super fallo e cartellino giallo ci provo deviata calcio d'angolo calcio d'angolo attenzione eh di testa però troppo debole mamma mia però mamma mia lo salto lo salto ma non completamente ora si ci posso provare e il portiere il portiere la smanaccia così la palla mamma mia i passaggi di questo portiere ma dobbiamo vingerla per forza sta partita dai mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia non sanno tenere palla attenzione ci provo 1 a 0 ma era prevedibile dopo quello che ho visto si bellissimo questo passaggio anche lunghissimo però va bene va bene e mi ha fermato ancora nostra però la palla è uscita fuori e se me la passi mi sta in favore va ci provo deviata vanno all'intietro con tutto il campo libero che abbiamo vabbè non so cosa fare sono chiuso tieni ripassamela però che provo a fare il 2 0 vabbè deviata era uscitami sempre la palla però vabbè l'arbitro dice di no e no andiamocela a riprendere va vediamo se riesco ad accentrarmi e riesco a fare il tiro la prende la prende così tipo ai ai sto portiere ehi ma è del mestiere questo no non ci arrivo ci arriva l'arbitro però ci provo mamma mia eccoci qua ci provo mamma mia ci provo con il super tiro ancora mamma mia mamma mia ci fanno fare tutto quello che vogliamo questi qua il campo è nostro attenzione mamma mia ci lasciano fare tutto quello che vogliamo però quando attaccano bisogna stare molto attenti recuperate la palla per favore recuperate la palla perché non ho nessuna intenzione di andare a pareggiare contro questi spazzola via finisce quel primo tempo attenzione no vabbè no vabbè no vabbè no che cazzo hanno fatto questi nel secondo tempo c'è negli spogliatoi sono drogati ah non ci posso credere io dai andiamo a ripare un col dai perché nessuna intenzione di perdere contro questi qua io ho di pareggiare dai che abbiamo l'occasione abbiamo l'occasione 2-0 facilissimo ho preso il palo anche dopo aver fatto vuole una cosa assurda avvicinata ma a me non mi sembra tanto ravvicinata quella di stand però vabbè attenzione perché vogliono riprendersi il pareggio questa volta il portiere c'è vediamo se riesco a saltare no sono costretto a passare la palla cosa fa cosa no quando sono costretto a passare la palla mi viene la febbre a me mi viene passamela a me la palla dai che lo salto ci provo e chiudo la partita 3 a 1 è tripletta anche per me possiamo provare ad attaccare ma chi ci deve arrivare lì sì vabbè questo che passa la palla agli altri grande recupero grande recupero non ci sono riuscito a saltarli tutti anche perché era difficilissimo perché non mi passa la palla su al millimetro ma allora io dicono ma se siamo attaccati l'uno con l'altro praticamente siamo la stessa persona in quel momento di quanto eravamo attaccati cosa mi passi la palla ma vai per la tua strada vai avanti poi se ti marcano me la passi la palla ha svirgolato un tiro assurdo ha svirgolato questo amico spero abbiamo vinto dai secondo turno di coppa contro almer city comincia qui questo secondo turno di coppa ottavo di finale turno 2 sono gli ottavi di finale va bene va bene va bene così dai dammi dammi sta palla qua ormai è tardi sono libero me l'ha parata me l'ha parata dovevo farli il pallonetto dovevo farli non ci ho pensato ci provo deviata ci riproviamo vediamo che cosa so fare bene sport ci ossic relata the Grazie a tutti.